Il Tribunale di Pesaro ha emesso questa mattina una seconda sentenza di condanna di diffamazione a mezzo social nei confronti di un secondo hater del sindaco Matteo Ricci finito alla sbarra. Dopo la sentenza di dicembre che condannò un 57enne pesarese a 800 euro di multa e a un risarcimento di 3.000 euro, oggi il giudice monocratico Andrea Piersantelli ha condannato come colpevole di diffamazione un altro 51enne pesarese, SM le sue iniziali, a 1.000 euro di multa, 7.500 euro di costituzione in parte civile e 1.900 euro di spese processuali. Nel sindaco e nell'imputato erano presenti in aula, rappresentati dall'ufficio legale del comune e dall'avvocato difensore Andrea Bianchi. Gli insulti Facebook in questione riguardano la primavera del 2020 in piena pandemia. Ricci, ascoltato in tribunale nella precedente udienza, ricordò come all'epoca tentò di bloccare i messaggi degli haters così come ricordò di aver trovato lettere minatorie nella cassetta delle lettere. Precedente udienza il cui il pubblico ministero aveva chiesto 4.000 euro di condanna e il comune 30.000 euro di risarcimento come parte civile. Attraverso una nota stampa di oggi Ricci ha comunicato che i 7.500 euro di risarcimento saranno destinati a coloro che ne hanno più bisogno. La scorsa volta scelse di metterle a disposizione delle persone con disabilità questa volta chiederà alla Giunta di devolvere le risorse per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà nel pagamento dell'affitto. All'uscita della sentenza odierna l'avvocato difensore dell'imputato ha lasciato trapelare l'intenzione di ricorrere in appello per un difetto di procedibilità e per incongruenze nella identificabilità di collegare profili in questione alle azioni dell'imputato.